Lei deve stare zitto, non ci siamo, io non ho il potere di concentrarmi e pensare a lei lì, altrimenti dico parola a de minchiam, il problema è questo qui, non riesco assolutamente, va bene, perché io vi faccio fare il lavoro vostro penso con estrema serietà, lei mi urla, si mette le cuffie, esatto, esatto, la scusa, ma il problema è così. C'è un po' di nervosismo anche nelle spalle. No, non c'è nervosismo, io ho bisogno di serenità per esprimere, altrimenti a caldo io non faccio niente. Perché la storia, piaccia o non piaccia, è l'unica realtà vera inconfutabile, la storia rimane. Se io sento dire sì, no, mammi, però è compagnia, va bene. Non replico, non posso replicare, che devo replicare? Si parla per parlare. Rinunciare alla mostra. Io non alleno i sentimenti, l'istinto. Alla vetrina, per me è un rebus. E' simpatico, delle volte oltremisura. Cioè attraverso pregio, attraverso il mio temperamento e il carattere. Quindi diciamo che tutte le componenti 50 e io 50. Ed io il punterello che me sta bene. Qui c'è il problema di interpretazione. Il problema è o blackout e allora voi dite, presentate il personaggio, sta zitto. A lui non va a parlare. Quindi con tutte le negatività. O se c'è, o se c'è analisi, allora diventa il tipo spocchioso. Sentite, lei deve stare zitto. Non ci siamo. Altrimenti dico parole a deminchi a me. Io ho bisogno di serenità per esprimere, altrimenti a caldo io non faccio niente.